Partito Stiamo registrando in onda, vai vai Posso rovesciare questa cosa? Provare a rovesciare E' solida, figa Oh, noi siamo assi in un centimetro Ma che cazzo è sta merda Era la migliore di Raspe Baller Niente raspe, niente batter per oggi Cucchiaio Figa Ha la stessa consistenza del cibo per cani, davvero Regalo a gourmet E' meglio questa roba qui, anche la visca Ci sono delle palle, cosa sono le palle della renna? Guarda, vieni a vedere Sono le palle di renna Probabilmente si Mmm, che buono Tanto poi ci aggiungiamo l'ingrediente magico Il remme Il remme In generale il remme Non ne lasciamo dentro neanche un grammo di questa prelibatezza Poi ripuliamo con le dita E' una tipica prelibatezza Sami Adesso si capisce come stanno distinguendo Vabbè, addio Eh, non l'ho vista rifallo Addio Ciao 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 Ciao